Abbiamo deciso di anticipare, non più di chiudere la stagione, ma di aprirla a beneficio chiaramente della città, a beneficio di tutti gli operatori del mondo della pesca, del mondo della gastronomia. Quello che vogliamo fare quest'anno è tornare a far conoscere la freschezza del nostro pesce, ecco perché non sarà più a settembre periodo di fermo pesca, ma sarà nella prima settimana di giugno, dall'1 al 4 giugno, perché comunque avremo la disponibilità totale dei marinai, ma soprattutto del pescato locale. Una bella promozione, una bella valorizzazione. Come Camera di Commercio abbiamo visto anche i dati dello scorso anno, dal punto di vista economico, che di fatto sono importanti per una città come Fano. Abbiamo detto di alzare l'asticella e questa asticella si sta alzando. E' molto importante anche il lato della sostenibilità, questo dobbiamo dirlo perché è un incipit anche per fare incoming a livello turistico, perché anche come Marche, come distretto biologico più grande d'Europa, è chiaro che dobbiamo far sì che non sia solo un lato enogastronomico attenzionato, ma anche il lato turistico, quindi tutto insieme per la valorizzazione del territorio e per la crescita economica delle stesse imprese territoriali. Questi 21 anni è cresciuto moltissimo, è diventato un elemento anche di forte promozione, non è in caso che anche nelle prossime settimane saremo in giro per l'Europa a raccontare e a valorizzare il brodetto e quindi è un elemento culturale ed economico, quindi molto importante per il nostro territorio. Noi con lo studio che abbiamo effettuato in merito al brodetto festa abbiamo rilevato le spese sostenute dai visitatori del brodetto, tenendo conto sia dei non residenti venuti apposta per il brodetto, quindi con le spese anche di pernotamento, soggiorno e spese accessorie, sia dei residenti che comunque sono venuti a visitare il brodetto festa e hanno anche loro fruito delle occasioni di consumo del brodetto. Tutto questo ci ha portato a misurare in termini di numero di visitatori, siamo oltre 19.000 visitatori, che il brodetto festa è riuscito ad attirare, e un valore complessivo di spesa, quindi un effetto economico generato dal brodetto fest, di oltre 2 milioni di euro, quindi siamo 2 milioni e 160 mila euro circa. Lo studio ci dice che il brodetto riesce a mantenere i turisti nella nostra città in un momento dove il turismo tende a calare perché andiamo in un periodo di bassa stagione. Il fatto di spostarlo a giugno, il fatto di raccontare sempre e continuamente che abbiamo bisogno di destagionalizzare, ci fa pensare ad un progetto vero che funzioni nella nostra città, ovvero la tradizione marinara che si lega poi, il pescato che si lega anche a questa forte necessità di far valere la gastronomia della nostra città, ci aiuta a raccontare le nostre prelibatezze, ci aiuta a raccontare i contesti in cui viviamo, ci aiuta a fare il turismo anche in bassa stagione.